Ciao, allora, album numero 9 del River Sheet ed sono sicura che lo stavate aspettando tutte quante perché sono iniziati i saldi. Ebbene sì, trovate tantissimi prodotti scontati fino al 40% su tutte le linee e dire wow, e poi trovate tutte le fine serie, quindi edizioni limitate, quelli che hanno rifatto e quindi sono a prezzi stracciati anche fino al 70% e quindi è davvero un album da prendere al volo. Vi ricordo che l'album numero 9 varia fino al 26 luglio del 2016. Iniziamo subito a sfogliarlo. Allora, iniziamo e vado veloce perché questo è un album davvero molto ricco. Vediamo intanto tutti i prodotti, eccoli qui, da linea serum vegetale, scontati fino al 40%, tutti. Quindi anche questa linea, la ovale lifting, eccola, elixig 79, rich creme, ed è l'antiese globale, verde feu. Poi andiamo avanti, scontata anche la idra vegetale, il sensitive vegetale, pur system. Scontato del 40% anche tutto il make up, quindi il mascara. Eccoli, anche il nuovo, ed è tutto l'altro trucco. Andiamo avanti, ecco. Avanti, possetti. Ovviamente sono scontati fino al 40% anche tutti i solari, e per il perfetto, eccoli, per il perfetto. E il manoi. Sconti fino al 40%, eccoli, anche su dei trattamenti corpo, eccoli qui. E anche, eccola qua, l'altra di Sonia Mam. Troviamo lo sconto, eccoli qua, sulla linea Mattino Jardin, quindi davvero wow, è il momento di fare scorta. Il gel doccia, ad esempio, 2,95. Vediamo ora i prodotti di fine serie, cioè quelli che andranno fuori produzione, e quindi sono a prezzi scontatissimi. Eccoli, ed è la maschera Effetto Lifting, la crema risplendente giorno, protezione 20 della linea Serum Vegetal, crema risplendente occhi. Eccoli anche qua. E abbiamo dei sconti fino al 70%. Ad esempio questa linea, che sapete che hanno rifatto il packaging, oppure anche l'XS7-9, perché hanno rifatto la confezione, ma la formula resti invariata. Rich Creme, stesso discorso. E poi anche il trucco della Luminella, ad esempio il fondotinta della Luminella, che mi sono trovata molto bene. I vari smalti, eccoli qui, 2,95 con questi smalti, oppure, scusate, queste colorazioni, eccola qua. Il blush, quello liquido, che è andato, era un'edizione limitata. Il colla intenso, questi colorati, sempre un'edizione limitata. E poi abbiamo, eccola qua, l'altri datante per i normali, l'acqua vegetale corpo, i spray, i doposole. Ed è tutti il bagno doccia e il latte corpo. Ecco, delle varie profumazioni da linea Leplasia Nature, perché hanno rifatto le confezioni e le profumazioni. Questo era tutto il catalogo, che è con super, super saldi. Ecco, abbiamo sfogliato tutto l'album, la luce è sparaflesciata, ma non importa. Ed vi ricordo che qui sotto ci sono dell'info box, i link per contattarvi, per le informazioni, per gli ordini. E c'è sempre anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer, o tablet, o telefono, o quello che volete. Ed non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati, con il Magico Autore del Mondo di Yves Rocher.